Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Call of Duty World War 2 Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato la missione Operazione Cobra Oggi ragazzi dovremo assaltare la Roccaforte, questa missione si svolgerà il 26 luglio 1944 26 luglio, siamo asserragliati in una fattoria vicino a Marigny, chiudo gli occhi per pensare a Aeser, ma rifaccio quel sogno Ok ragazzi eccoci qua Ci stavamo riposando Solito sogno Più o meno Sì, continuo a tormentarmi Sto bene ora, riposo un po' No, Wilson deve capire che sono pronto Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare Già ma sono stanco di lui, a casa mia quando c'è un problema lo si prende di pento, è il solo modo di farsi rispettare Ti capisco, devi credermi, un uomo deve affrontare le sue battaglie, ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare Per fortuna c'eri tu a coprirmi E poi c'è il vecchio San Michele che veglia su di noi, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi Non sapevo che credeste in quella roba Non rifiuto nessun tipo di aiuto Vuoi parlarmi del sogno, o no? I lupi ci uccidevano al bestiame Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato Mamma mia ragazzi Ci sto provando Tutto a posto? Mi dispiace Paul Ascoltami ragazzo, è naturale avere paura Dobbiamo tornare a casa fratellino Da quel giorno mi ripromesi di non deludere mai più Paul Ora non si tratta solo di convincere lui, ma anche Pearson Ok ragazzi, eccoci qua, la roccaforte Starler guiderà il grosso delle truppe nella piazza Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa Domande? Bene! Io ne ho una Risparmiatela e avrai una stella d'oro Andiamo! Allora cosa mi chiedi se ho delle domande? In più ci sta anche piovendo un aereo in testa Mi serve copertura a sinistra Fai che dardo va Che dardo lì Grazie Mi è già arrivata una bomba in testa praticamente Ok allora Prendiatevi questa Sto già morendo praticamente Allora li abbiamo uccisi? Forse sì Sì possiamo già Uccidere Ne arrivano altri da lì Dai bombardali Ok però quello lì non è mica morto Eh mi spiace ragazzi Vuoi fare L'eroe C'è un altro lì Dai metti la testolina fuori Lancia una granata Tira una granata Eccoli Ce n'è uno là sopra L'ho visto Nemico in movimento Preso Davanti Vediamo se riesco a entrare A sinistra Ok Explosa pure una granata Uno dietro l'altro Sono resistenti però Aspettate che qua c'è un fucile Forse posso fare Più danni con quello Ne ho visto uno qua C'è pure un medikit È morto? Questo me lo piglio Lì non c'è nessuno Meglio andare su con la mitragliatrice No non c'è più nessuno Preso 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 Arrivo arrivo Guarda scendo direttamente da qua Mamma mia Zuzman Mi serve una mano Grazie Grazie Riusciamo a pigliarlo Forse l'ho preso Sì Attenzione C'è una granata Mamma mia Sì ma dove sono? Da qua Da qua Ce la farai Vieni 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 Dai 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 Ok Ok Allora aspettate Perchè lui può darmi questa Dov'è il fumogeno di segnalazione Dov'è il fumogeno di segnalazione? Delle Delle Granate Ok Ce n'è ancora qualcuno C'era ancora quello Ah quello era ancora vivo Ok Li abbiamo fatti fuori tutti Ci sono Allora aspettate che mi prendo una seconda arma Perfetto Di qua Dammi Al volo Grazie Dai sfogliamo sta porta Dove sono andati? Saranno fuggiti sentendoci arrivare Ci sono delle scorte Riforniamoci prima di salire sul campanile Ok Merda Itragliatrice al secondo piano Giù Ah è là Via 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 Sargenti arrivano altri gruchi dal retro Vateli fuori Accidenti ci han fregati Ci han fregati Ci han fregati Era tipo una specie di trappola Guardalo Colpito Guarda come vola Preso Preso anche quello Eh ma non lo vedo Il problema è che non lo vedo Ah guardalo Ok preso Adesso muori eh Finalmente Stanno uscendo Eccoli Un amico Ci hanno scoperto Ok Qui non li vedo Ah Un amico avvistata Il movimento Ok Ce l'abbiamo fatta Sono resistenti E comunque Prendiamo due mitragliette Va Ok Dai che esplode Dai che esplode Attenzione ai fianchi Ci sono Ci sono Tentato di fregarmi Via 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 Ok Dobbiamo fatti fuori tutti La chiesa è nostra Daniels Da uno sguardo A quei cannoni Vado alla porta Andiamo avanti I cruchi abbattono I nostri caccia Giusman Aiello Andate a distruzione Quelle armi Sì sergente Daniels Stiles Noi daremo supporto In cima al campanile Per fortuna ci sarai tu Lassopra Nessuna pressione Tranquillo Ti copro io Ti conviene Vai Giusman Tutti sulle scale Andiamo Dobbiamo andare su Probabilmente Utilizzeremo nuovamente Il fucile da cecchino Alla scala Però là è uno Dei nostri Sì Ok Come munizioni Sono messo bene Potevo prendermi così quasi Quella mitragliatrice lì Dai sbrighiamoci Ne ho uno che sta Eh mi sta salendo sopra Infatti Allora Però non li vedo È solo ferito L'hai beccato Ma non muoio Allora Ora finiscilo Dai dai che li facciamo fuori Preso Grande Daniels Fuori bersaglio Pecchini Nell'edificio Eccolo Nemico Secondo piano Preso Preso anche quello Oppure no Sì Occhio alle finestre Dove sono? Allora Loro sono qua Eccolo Tedeschi Fianco sinistro C'è un'altra contraerea Nel cortile Non è presidiata Tieni la d'occhio Sono vicini Oh non van giù eh però Adesso sì Eccolo Mi sembra di averlo preso No non l'ho preso Adesso si Adesso si Fuoco Preso Si ma Hanno bloccato Giusman Respira Ho capito L'ho preso in pieno petto Vabbè sentite Miro direttamente All'altra squadra Ok ce l'hanno fatta Attenzione Attenzione Stanno arrivando questi Uno Due Tre anche quello Per fuoco Ricarica veloce Segui la nostra squadra Preso Libero Ok li abbiamo eliminati Di quanti Crocchi sui tetti Dobbiamo tirarli Non si rialzerà più Ce n'è ancora uno Bel colpo Eniel Scrocchi In fondo alla strada Assegno Ok corretta andata Merda Grande Ti attaccano alle spalle Caspita Che maschi ci sono Vai 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 Mi stanno circondando I tedeschi li hanno circondati È solo ferito Ok Respira Ora finiscilo Occhi sul Ziusman Io sto cercando di eliminare Tutte le torrette Però non è facile Andosso Copriamoli Mentre supportano Ziusman Dai tira giù Tira giù Dai che li stanno eliminando Ma c'è qualche cecchino Ok morto Ce ne sono altri Ma intanto ricarichiamo Va Un ultimo canzone Tornare Non spazio Signore La contraire Si sta bussando Ok Direi di scappare E mi sa che ci hanno presi Merda Wow Ti prendo Stiamo scivolando No 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 E ci sta arrivando Una Campana in testa Ok Via 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 Vai 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 Sbrigati 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 Ehi si stacca la scala Aia che botta Incastrato Sposta 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 Stai Salta Via 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 Lo so Ci sono Ci sono Ah ok Pearson ce l'ha fatta Tra virgolette Mamma mia ragazzi Ho forse delle ali Soldati No sergente Infatti non sono il tuo cazzo Di angelo custode Fanculo Ho perso due ottimi soldati Ora diamoci una mossa E distruggiamo quei cannoni Forza Nemici in direzione sud Ok Seguiamo Pearson di nuovo Dobbiamo difendere la piazza Sì se me le dai Dove cazzo che sei Putta qui Questo Potremmo usare Questo Ok Vengono su dalle scale Butto un ragionato Fianco sinistro Alle scale Truppe nemiche Ok bravo C'è entrato Si stanno muovendo Frizza avvistato Qui Preso Daniel scopri il fianco destro A sinistra Sì se c'è Arrivano di qua Mamma mia Ne arrivano ancora Ce n'era uno lì Che stava ricaricando Dobbiamo indicare La zona bersaglio A IP 47 Daniel Puta un fumaggio in allozzo Non me lo faccio dire due volte Frizza avvistato Ok Che che mi da il fumogeno però Ah ok Fumogeno Arrivano 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 Che macello ragazzi Sì Han colpito pure noi quasi Ok sono un attimo stordito Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Sono vivo Incredibile ce l'ha fatta Avete dato il massimo Quei bastardi sono scappati E' stata un'azione ben eseguita Non se la sono cavata tanto male Vero sergente? Forse ti sbagliavi sul loro conto Finalmente tirate fuori le palle Ma adesso si fa sul serio Scopriremo di che pasta siete fatti Anche se gli servissimo la testa di Hitler Si lamenterebbe Combattiamo come oggi E la guerra Sarà finita in un attimo Ma per farlo dovremo superare noi stessi Ci sono Abbiamo conquistato Marigny Le truppe tedesche Se la stanno dando a gambe Ma adesso siamo nel mirino di Pearson Più di prima Non so davvero cos'altro pretenda da noi Ok ragazzi ce l'abbiamo fatta Gran bella missione Tosta Però gran bella missione Ok eccoci tornati nel menu principale Di Call of Duty World War 2 Abbiamo completato allora la missione della Roccaforte Ci sono stati momenti in cui ero un attimo in difficoltà Comunque alla fine siamo riusciti a respingere i tedeschi La prossima missione si chiama SOE S-O-I In inglese Nel prossimo episodio scopriremo cosa vuol dire questa sigla Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Call of Duty World War 2 Alla prossima ragazzi Ciao! Ciao! Grazie a tutti.